Salve a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati in questo nuovissimo video della Big Vanilla Siamo all'arena Perché ho deciso di creare un piccolo torneo per chi volesse sfidarmi a duello Per cercare di uccidermi, perché io sono sempre il Big ricercato in questo momento C'è anche l'olio lacustre Cosa vuole fare? Vuole sfidarmi per caso? Non lo so Vedremo chi arriverà e chi cercherà di uccidermi Le regole di questo torneo sono molto semplici Chiunque potrà partecipare Ma avranno solamente una singola possibilità per combattermi Ogni scontro durerà massimo 5 minuti Se il tempo verrà superato, lo sfidante perderà Sono banditi, totem e end crystal Non posso usarli neanche io ovviamente Non si può scappare, non si può interferire con altri scontri Quindi nessuno potrà attaccarmi 2v1 in questo momento Colui che riuscirà a uccidermi diventerà per l'appunto il Big ricercato al posto mio Ma se dovesse perdere Dovrà pagarmi per ben 35 punti Perché io sto mettendo a rischio la mia vita qua Mi sono preparato tantissime cose per bene Perché ovviamente va usato il nostro equipaggiamento Quindi andiamo a vedere chi si presenterà E se qualcuno si presenterà Perché non mi sembra che ci sia così tanta gente invogliata a combattere Benvenuto nell'arena, Carpi Il mio primo e forse unico sfidante Abbiamo anche gli spettatori Big ricerà Marci Buonasera a tutti Buonasera, buonasera a tutti Che mi dispiace che non hai avuto partecipazione all'interno di questa sfida C'abbè, c'abbiamo ancora per il momento Forse dopo arriva Forse un altro Speriamo Forse Verrà dato da questo segnale No Ma c'è il fulmine Ah no, il fulmine Non lo so Ci siete? Quando vuoi Ok Ragazzi Ok, iniziata, iniziata Bastava uno Troppi fulmini Capi come va, tutto bene? Ti senti carico? Ti Ragazzi Durante il video Io posso buttare giù una melopi A caso O posso Aiutare qualcuno Eh, capi, sta uscendo È uscito, è uscito Ha barato Ha barato Ha barato Hai spinto fuori Hai barato Hai barato Dai, basta State al centro e via Dai Dai, vieni, capi Perché scappi? Non mi mangio le mele Tu o mai? Non lo so Forse Non mi mangiate Ma, Nico Vogliono far veramente full Vederite lo sleep fight Ma finisce dopo domani Eh, vabbè Hanno un po' di pozioni, so Vedo partice alle strane So che loco ha 27 mele d'oro Non è vero La 29 Carbi, quant'è di mele d'oro? Non digli Giorgio Siamo ad vantaggio No P2 Attenzione No, spesso può si ritorno Adesso Push Che fastidio Ma la pioggia spegne il fuoco Sì Ma tanto abbiamo entrato In fare resistance Sì, esatto Hai capito Però lui c'è strano Però lui c'è strano Che mi sa Vorrei che i cuori voli Eh, quante pozioni hai? Cavolo Eh, devo rigenerarmi O comunque mi mangio Almeno un po' di ritardo E anche a me Anche a me È il server È copa di fumi di marci Così ho mangiato ancora? No, è invisibile No, che invisibile No Visibile con l'armatura Ah, ma si è attipato Cioè 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 Ho visto che mi favo qualcosa E poi ho sparito da nulla L'hai visto, Nico? No No L'ha vista, l'ha vista Carpi under perla No Mia, 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 mia Melopimia, melopimia Non l'hai mangiata? No L'ho presa Come l'ho le morte Va bene Potrei buttare una nuova melopimia, ragazzi No, anche non l'ha mangiata Ho un totem No, il totem è bannato È bannato la sfida È bannato da voi Ma non se lo butto io No, è bannato in generale Non si può usare La melopimia non l'ho bannata Invece Il totem sì Ce l'abbiamo avuto, Carpi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Attenzione Crittato Ahia Ha preso anche due cuori e mezzo Dall'enderpearl Lo insegno No, beh, con l'armatura non togli due a me Ha mangiato la melopimia L'hai visto? Mi sa di sì Sì, è troppo confidente No, ce l'ho in mano Ce l'ho in mano, l'ho visto Ma non c'è neanche in ventraveloce la melopimia In realtà E cosa hai preso in mano? A me lo do Chi sai le armature che mi sono messo? Eh, io ho messo abbastanza male in realtà Cosa hai fatto, Carpi mid? Cosa hai? Quanti putti di cuai? Voglio capirlo io Carpi fuoco Fuoco Sì Gigi Gigi Non l'ha tippato Io l'ho visto proprio in video Gigi Eh, no, ma l'ho ucciso prima L'ho ucciso mentre tirava Ho tirato la perla Oh, una bella sfida, cavolo Carpi con cattuzioni per lo scontro Però purtroppo Per un bug o meno È finita in un determinato modo Magari avrà in futuro qualche altra possibilità Di combattere contro di me Va bene Come hai rimesso tu però? Ero curioso di sapere Eh, Romeo Allora, pozzoni ne avevo ancora un po' Avevo ancora tre putti di instant health Una pozione di strength Fire resistance L'elmo l'avevo quasi completamente distrutto Ok Le mele ancora dodici Tu quante mele avevi invece? Io ne avevo sette Adesso ne sono Sono rimasto con sette mele L'elmo quasi pieno E poi C'avevo altre pozioni di instant health E so quell'altra roba Ci sta Ci sta È stata una bella sfida Grazie Grazie Però ho perso Eh Ricordo Chi è che mi ha ucciso durante L'evento Del Come si chiamava L'evento Hunger Games Sei che mi ha ucciso Oddio Sei stato tu Uccidermi Ti sei preso la tua vendetta Esatto Adesso ci impari Adesso ci impari Grazie Carpi Alla prossima Alla prossima Annunciamo il secondo partecipante Del torneo De Mark Dov'è De Mark? Eccomi Arrivo Eccolo Eccolo Abbiamo anche nuovi ospiti Sugli spalti Alla Marco Allora Loco Le regole sono queste Ok vai dinti Tu le regole No pozioni No scudo Mele d'oro Qualunque valgono Tutto Va bene? Io so che Qualcuno La sopra Ti ha dato Delle mele OP Quante te ha date? No 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 Cosa vuoi Big Ray? Cosa vuoi? Dov'è? Blocco Cosa vuoi? Blocco Basta Blocco Marco con dove Possiamo iniziare A combattere? Sei pronto? Sicuro? Sì Marco Comunque quel corpetto È in diamante Via No no Ah che mangia subito Melo OP Pagliaccio Che pagliaccio Devi correre ora Marco Allora che regeneration Corri Vieni qua Se vabbè Le ender perché togsi Ragazzi che sta lanciando cose Dall'alto Marci No no Io sto dando solo fastidio Date gli dei ender per la marca Ma quanto sto spammando ender per l'inciso Hai la melo OP Attenzione Vediamo un po' Eh però è finita la mela mi sa C'è solo la resistenza No la resistenza Ma io non riesco a colpire l'occo eh Perché sono fortissimo Ma loco sei davanti ai miei occhi Non è che sei fortissimo Allora sei tu scaso Ci sono tante opportunità No ragazzi Per te Onestà Oddio Attenzione Ronde Dai Ho mangiato il pollo Ho mangiato il pollo No no Era un po' Era pollo Pollo dorato Questo è meladoro Sei ridicolo guarda veramente Aveva detto No meladoro Ma gliela stavo dando La meladoro normale La pille stai vedendo No no Che colore è questa qui ragazzi Guardate Io non vedo nessun in chat Mentre quindi È normale Un diverso Questo è questo Vero è vero Attenzione Ha preso Marco è stra confident Non sta mangiando nulla È ancora vivo Ma si è esatto Peggio di me Non sta tranquillo Ahia L'ha chiamata E ritira quello che hai detto Vieni qua schifoso Dai Quanto di me che d'oro c'è È un pollo È un pollo Va bene Va bene L'ha beccato Io ho preso tre volte Le ho viste due Evitate Però ok Spariscono lì L'acqua La questa è se ce l'hai Marco No Ah sì Cosa è che posso usare La water Oh bella sfida questa Molto bella Molto aperta No c'è un problema Tecnico Ho fitto e frecce Sta succedendo Le tue un caffè Stai raccogliendo le frecce Uh l'ho fatto un critico qua No ma che critico Ma quant'entere per c'è ancora Ancora cinque Oh finalmente Tu quanto faccio c'è ancora Chi lo sa È bella questa Bello Polpo di Questa è passata Attraverso Abbiamo visto No mi ha passato Lo fight Attenzione È l'ultimo fight La prima armature Potrebbe essere che ci sia qualcosa Io ho visto qualche particella di troppo ragazzi Attenzione Scappa Marco Attenzione Anche tu hai knockback loco? Sì E qui il knockback ragazzi Not worth Uh Pusha Per l'aggressivo Attenzione Scala muro Quanta vita Sono ancora Che si conosce Sono un po' di possibili Scusa Hello Prendo quello che lascia per terra Loco scappa Non lo sarebbe Ha usato anche l'ender Per vuol dire che era proprio critico GG GG Non ci crediamo GG Non ci crediamo GG Marco mi ha ucciso È stato molto bravo E niente Da ora in poi Siamo di nuovo persone normali Io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Se vi è usato al tv del genere Grazie per essere citati Un saluto da loco Dico Vi ha buttato giù Ciao a tutti Grazie 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 a tutti